Pezza Pillole di salute dell'Ulso 5 Polesana Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori Questa settimana siamo in compagnia del dottor Stefano Boccardo Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Riabilitazione Rovigo 300 Buongiorno dottore Buongiorno a lei Dottore partirei chiarendo la figura del fisiatra Ecco spieghiamo ai nostri telespettatori a casa di cosa si tratta Anche magari perché so che a volte capita di avere un po' di confusione Il fisiatra è un medico che è specialista in medicina fisica riabilitativa E se lo possiamo sintetizzare è il medico che gestisce la disabilità Nel senso che varie patologie ortopediche, neurologiche, traumatologiche, uroginecologiche Pneumologico, cardiovascolari Possono determinare una disabilità che il fisiatra prende in carico A dire vero prende in carico la persona con quella patologia Non tanto la patologia stessa E quindi ha un approccio globale E lavora in team Non lavora mai da solo ma lavora col terapista, col fisioterapista e col logopedista In una situazione ambulatoriale Ma nell'adegenza lavora anche con l'infermiere, l'OS Ed eventualmente con altri specialisti, psicologo, neuropsicologo In base alla patologia e alla disabilità da trattare L'altra caratteristica è che l'obiettivo, la visione è comune Quindi tutti gli operatori sanitari che lavorano intorno al paziente Conoscono e hanno l'obiettivo di ridurre la disabilità e riportare il paziente a casa Ecco, questo è lo sguardo generale Le chiederei invece di entrare nel dettaglio e capire com'è organizzata proprio l'unità L'unità operativa si articola in due strutture Rovigo e Trecenta Rovigo ha un servizio di riabilitazione Quindi attività esterna con i pazienti E attività interna con le visite di consulenza nei vari reparti per acuti Trecenta ha sia il servizio che l'adegenza riabilitativa Che riaprirà a breve con un'adegenza intensiva E con l'obiettivo poi di riportare il paziente più velocemente a casa All'interno della struttura abbiamo il team riabilitativo Come accennavo anche prima Con le varie figure che lavorano sui programmi specifici Per recuperare la disabilità e soprattutto le difficoltà E migliorare la qualità di vita e rientrare a domicilio Ecco, dottore, so che l'azienda sanitaria ha investito molto a Trecenta C'è anche forse a breve già una nuova apertura per quanto riguarda il reparto E poi soprattutto si parla di investimenti per migliorare le tecniche Migliorare il percorso del paziente, velocizzarlo e fare in modo che sia meno invasivo Sì, c'è stato un investimento economico ma direi soprattutto culturale sulla riabilitazione Trecenta a breve riaprirà il reparto che era presente nel 2015 E' stato chiuso dalla pandemia Covid Ci saranno 25 posti letto di riabilitazione intensiva Ovvero una riabilitazione dove il paziente lavora un paio di volte alla giornata Insieme a tutto il team riabilitativo E dove vengono, diciamo, ricoverati le patologie con prognosi di recupero Importante e quindi ictali, ortopediche, cardiovascolari, neurologiche Chiaramente che possono essere, possono avere aiuto da questo tipo di approccio Un approccio intensivo Apro la parentesi per capire com'è organizzata la riabilitazione A tre livelli macroscopici Uno, l'estensivo, che è l'attività ambulatoriale in territorio, negli ospedali Oppure a domicilio o all'interno dei reparti per acuti Un secondo livello di riabilitazione intensiva che riguarda la degenza Che è come quella di Trecenta E un terzo livello di degenza ad alta specializzazione Che riguarda l'intervento nelle gravi cerebrolesioni, nelle lesioni spinali Nelle gravi traumatismi Quindi chiaramente in questo momento nell'azienda abbiamo il primo e il secondo livello E nel tempo ci sarà da strutturare il terzo livello Andando a sanare i bisogni del territorio insieme anche al privato accreditato Allora ringraziamo il dottor Stefano Boccardo per averci fatto conoscere Insomma è la sua unità operativa complessa Grazie anche ai nostri telespettatori per essere stati con noi Appuntamento a lunedì prossimo con le pillole di salute dell'Ulss 5 Polesana Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti